Oggi parliamo di Mike Booster, questi accessori mitologici ormai in Home Studio. Servono davvero? Vale la pena? Vale la pena comprare una cinesata da pochi euro? O vale la pena spendere e andare su qualcosa di più serio? Questa e tante altre domande inutili oggi su questo canale. Oh ragazzi, bentornati ad un nuovo video e sì, oggi parliamo di Mike Booster, questi accessori che erano sconosciuti fino a un paio d'anni fa per noi possessori di Home Studio e che sono diventati un must da quando è diventato un trend l'utilizzo del microfono dinamico in Home Studio, per i podcast, per YouTube, eccetera eccetera. Ma cos'è un Mike Booster sostanzialmente? Un Mike Booster in termini tecnici e scientifici è un cazzettino, letteralmente un cazzettino, che voi collegate al vostro microfono e agisce come se fosse un preamplificatore. Voi gli date la Phantom e lui si occupa di darvi un segnale molto più forte a livello di decibel di gain e molto più pulito, partendo dal segnale del vostro microfono dinamico, che come ben sappiamo possono essere veramente, veramente difficili da spingere. Un esempio palese di ciò è questo Rode Pod Mike. Questo Rode Pod Mike adesso sta passando per una catena di processing abbastanza complessa, che include normalizzazione, compressione, loudness aggiuntiva, equalizzazione, riduzione del rumore perché ho il condizionatore acceso. Per darvi una misura del problema adesso provo a disattivare tutto e farvi sentire come entra questo microfono che per l'occorrenza, per questo video, sta entrando con un gain veramente minimo o il gain della mia Volt One impostato a neanche un quarto, quindi veramente una goccia di gain pochissimo. Vi consiglio di indossare le cuffie perché altrimenti rischiate di prendermi per pazzo e di non sentire niente. Sentite l'audio clean tra 3, 2, 1... Ok, e questo è come sta entrando questo Rode Pod Mike nella mia Universal Audio Volt One. Come potete sentire, veramente bassissimo. Per avere un livello di gain che sia accettabile, non buono, accettabile, io devo portare il mio gain praticamente quasi al massimo. Adesso siamo a un 85% di gain. Capite che a questi livelli voi non solo sentite il condizionatore, ma sentite tutti i rumori, tutti i fastidi del preamplificatore della mia scheda che non è il massimo. Ed è qui che ci vengono in soccorso questi due fantastici gadget. Questo qui è il Clark Technic Mic Booster CM1, la Cinesata per eccellenza, il mic booster che tutti comprano quando vogliono provare l'ebbrezza del mic booster per vedere se gli fa comodo. Costa veramente poco, l'ho usato felicemente per due anni, ho scoperto che c'è di meglio. Dopo vedremo. Questo qui invece è il Fethead della Triton Audio. Anche lui è il più economico, però della fascia dei più costosi. È quello che in genere la gente compra quando vuole qualcosa di più costoso e però non vuole spendere cifre folli. Costa una settantina, ottantina di euro, comunque più del doppio rispetto a questo qui. Differenze tra i due, oltre alla qualità sonora che vi farò sentire adesso, è che questo qui è una scatoletta sostanzialmente. Avrete bisogno di due cavi XLR per farlo funzionare, uno in input e uno in output. Questo qui semplicemente si attacca dietro il vostro microfono e basterà collegare il solito cavo con cui collegate il vostro microfono. Quindi molto più comodo. Lo collegate, lo nascondete e via. Siete a posto. Io direi adesso ce li andiamo a provare. Mi toccherà immolarmi per voi e spegnere il condizionatore. Quindi inizierò a morire. E vi chiedo a questo punto la gentilezza di iscrivervi al canale per supportare questi contenuti. Soprattutto di dare un'occhiata ai link che trovate in descrizione. C'è il mio ultimo singolo. Ci tengo molto affinché lo ascoltiate. Perché è praticamente la somma di tutto quello che facciamo su questo canale. Assolutamente prodotto in casa. Poi c'è il link allo shop, preset, corsi. Tutti i link che supportano al canale. Iscrivetevi, un like, un commento. Io sono felice. E direi di procedere così. Vi faccio sentire prima lui clean, senza condizionatore, senza nulla. Poi andiamo in ordine dal più economico al più costoso. Ok ragazzi. Adesso spento il condizionatore. Quindi ho 10 minuti di autonomia prima di morire soffocato. E state ascoltando questo Rode Pod Mic che entra all'interno della mia Volt One con il game. Al minimo, senza nessun processing. Facciamo un secondo esperimento. Provo ad alzare il game. Vediamo quanto devo tenerlo alto per avere un volume semi-accettabile. Ok, e adesso state ascoltando ancora il Rode Pod Mic ancora senza nessun mic booster però con il gain della mia scheda audio ad un 85%. Sicuramente il segnale più forte sicuramente però state sentendo molto più fruscio dai preamplificatori e chi lo sa, qualora ci fossero rumori di fondo ovviamente andreste ad amplificare anche quelli. Ok, ho riportato il gain sulla mia Volt One al minimo e adesso state ascoltando il Pod Mic che entra in questo Clark Technic Mic Booster CM1 che ve ne pare sicuramente il livello è più alto ma è pulito allo stesso modo sentite rumori, frusci, scariche, interferenze fatemelo sapere nei commenti fatemi sapere se vale i 30€ che costa. Ok, e dulcis in fondo adesso state sentendo il Fethead della Triton Audio che come potete vedere è direttamente collegato al Rode Pod Mic ed esce nella mia Volt One che è sempre al minimo non ho fatto modifiche al gain sulla scheda per questi ultimi due test se non quella di accendere la Phantom perché qualora non ve l'avessi detto prima sì, questi accessori richiedono l'utilizzo della Phantom come vi sembra il suono di questo Fethead? meglio? peggio? per l'utilizzo che ne ho fatto negli ultimi mesi sicuramente a parità di gain lui mi sembra molto ma molto più forte e direi anche più pulito mi è capitato molto spesso con il Clark Technic di sentire gracchiare di sentire interferenze di sentire rumori statici ed elettrici fatemi sapere ovviamente nei commenti se avete sentito nulla di tutto ciò ora perdonatemi ma devo riaccendere il condizionatore perché so, morendo, mi sento implodere da dentro ok, ve li ho fatti sentire tiriamo fuori due considerazioni veramente al volo nel frattempo lascio il Fethead attaccato perché è il mio setup classico così potete continuare ad ascoltarlo anche con il condizionatore acceso quindi Mic Booster domanda numero 1 hanno senso in un studio? assolutamente sì vi consentono di avere un suono molto più forte tenendo il gain della scheda audio molto più in basso e vanno soltanto che ad aumentare tutti i vantaggi che già vi da un microfono dinamico ovvero annullare praticamente i rumori di fondo circostanti quello che volete avere un suono sicuramente molto più pulito a patto di non comprare una cinesata del genere ok, io sono stato un utilizzatore convinto di questa roba per due anni quando poi sono andato ad ascoltare lui è stato come passare dalla notte al giorno molto più definito molto più forte molto più pulito lui è sicuramente la scelta che farei se dovessi registrare qualcosa a livello professionale se dovete registrare un parlato per YouTube ve la potete cavare con questo dovete spipolarci un pochino di più ok non ve lo consiglierei sinceramente se dovessi scegliere prendete questo qui costa una settantina di euro ok, questo ne costa 30 però capite che tra 30 e 70 non è come se vi dicessi 70-140 ok, costa il doppio ma non è una differenza tanto grande quindi Fathead super consigliato Clark Technic soltanto se veramente volete provare e magari poi rimandarlo indietro io comunque vi lascio entrambi i link in descrizione sapete che acquistando da lì supportate il canale e basta dire che siamo stati velocissimi efficientissimi bravissimi io non sono morto di sudore se avete altre domande su Mike Booster altre alternative da suggerirmi o domande da farmi buttate tutto nei commenti stasera leggo tutto e vi rispondo ok noi ci vediamo settimana prossima per un nuovo video abbastanza divertente ho fatto degli acquisti un po' del cazzo ve li voglio far vedere fino ad allora fate i bravi iscrivetevi al canale e niente ciao ciao